Musica Ieri lunedì dell'Angelo il Papa è tornato a far sentire la sua voce durante Regina Celi con l'ennesima richiesta di pace per le aree del mondo funestate dalle guerre Padre Francesco Mazzotta, rettore del Santuario del Santissimo Salvatore di Andrea ha esultato i fedeli a fare uno sforzo per accrescere la propria fede La Puglia non tratta presentati a Bari i dati raccolti del progetto giunto alla quinta edizione e il nuovo spot antitratta diretto dal regista Alessandro Piva Giorgio Mercuri è il nuovo presidente di Conf Cooperative Puglia è stato eletto durante l'ultima assemblea congressuale regionale Grotte di Castellana sono stati presentati numeri che ne testimoniano il successo nel 2023 sono state infatti le grotte più visitate d'Italia Ben trovati al primo appuntamento con l'informazione di Teledeon si è chiuso ieri il lungo ponte di Pasqua ripercorriamo insieme alcuni momenti delle celebrazioni che hanno segnato questi giorni di gioia per i cristiani di tutto il mondo ripartiamo dalla veglia di Pasqua nella notte del Sabato Santo con le parole di Papa Francesco Gesù è la nostra Pasqua lui è colui che ci fa passare dal buio alla luce che si è legato a noi per sempre e ci salva dal matri del peccato della morte attirandoci nell'impero luminoso del perdono e della vita eterna fratelli e sorelle alziamo lo sguardo a lui accogliamo Gesù Dio della vita accogliamolo nelle nostre vite rinnoviamogli oggi il nostro sì e nessun macigno potrà soffocareci il cuore nessuna tomba potrà rinchiudere la gioia di vivere nessun fallimento potrà relegarci nella disperazione fratelli e sorelle alziamo lo sguardo a lui e chiediamoli che la potenza della sua resurrezione rotoli via i massi che ci opprimono l'anima alziamo lo sguardo a lui il risorto e camminiamo nella certezza che sul fondo oscuro delle nostre attesse e delle nostre morti è già presente la vita eterna che egli è venuto a portare Per vedere il Cristo risorto è necessario che la nostra fede faccia un salto di qualità così padre Francesco Mazzotta rettore del santuario del Santissimo Salvatore di Andrea ha esortato i fedeli nella notte di Pasqua durante la grande veglia La resurrezione riguarda soltanto cioè chi vede Gesù risorto sono soltanto 550 persone e l'evento stesso della resurrezione non è un evento pubblico non c'è nessuno a certificarlo io mi immagino che questa resurrezione avvenga come un parto quando una donna partorisce non è che si mette davanti a tutti è in un luogo intimo che succede questa cosa è in un luogo chiuso e questo parto viene concepito viene alimentato all'interno di un sepolcro nuovo con i tempi di Dio con tutta la calma Gesù sta in questo sepolcro mentre il mondo è indifferente a quello che avviene mentre il mondo pensa che la pratica è spicciata perché l'abbiamo fatto fuori mentre il mondo pensa a questo Dio opera da quella morte nasce la vita da quella morte rinasce la vita soltanto che tu la devi volere saper vedere questo è il problema perché soltanto 550 persone vedono Gesù risorto perché bisogna fare un salto per vedere il risorto bisogna ritornare a quella croce all'ora in cui Gesù davanti a tutti pubblicamente dice tutto è compiuto e ieri lunedì dell'angelo il Papa è tornato a far sentire la sua voce durante il Regina Celi con l'ennesima richiesta di pace per le aree del mondo fu un'estate dalle guerre rinnovo a tutti gli auguri pasquali e ringrazio di cuore coloro che in diversi modi mi hanno inviato messaggi di vicinanza e di preghiera a queste persone, famiglie, comunità giunga il dono della pace del Signore risolto e vorrei che questo dono della pace arrivasse là dove più ce n'è bisogno alle popolazioni estremate dalla guerra dalla fame da ogni forma di oppressione con affetto saluto voi romani e pellegrini di diversi paesi è stato il Vescovo di Andrea Monsignor Luigi Manzi a celebrare la Pasqua nel Santuario del Santissimo Salvatore ripercorrendo il passo evangelico dell'apparizione del Risorto vediamo quella che ci è stata narrata è un po' come una liturgia della parola quello che accade in ogni nostra celebrazione la prima parte della nostra celebrazione di ogni volta che veniamo a Messa in che cosa consiste? consiste nella lettura e nella spiegazione delle scritture come sto facendo io in questo momento intanto giunserò a casa e Gesù fece finta di proseguire e loro invece lo invitarono rimane con noi ormai è tardi ecco perché dicevo più o meno deve essere stato verso quest'ora rimane con noi perché si fa sera rimani con noi ti fermi a casa domattina poi riprendi il tuo cammino non lo avevano ancora riconosciuto quando lo riconoscono? quando Gesù sedendosi a mensa con loro compie un gesto è lo stesso gesto della sera della cena è lo stesso gesto che io farò fra poco all'altare per voi prese il pane lo spezzò e lo diede loro allora San Luca ci dice una parola bellissima allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero e Gesù felicissimi di aver incontrato e riconosciuto Gesù ma ci dice San Luca egli sparì dalla loro vista appena riconosciuto Gesù scompare e quello che ci stupisce è che i due non è che si dispiacciono ciù che peccato se ne è andato e ora era così bello no felici di aver riconosciuto Gesù presente in mezzo a loro che cosa fecero dice il Vangelo subito ripresero la via del ritorno Contrastare qualsiasi forma di sfruttamento umano e favorirne la rinascita è questo l'obiettivo della fitta rete di associazioni che opera nell'ambito del progetto La Puglia non tratta giunto alla quinta edizione a Bari presentati i dati raccolti e il nuovo spot antitratta diretto dal regista Alessandro Piva Unità di strada accoglienza formazione inserimento lavorativo è un'azione quotidiana quella portata avanti da una fitta rete di associazioni che operano nell'ambito del progetto La Puglia non tratta si scende in campo per contrastare lo sfruttamento umano per far riconquistare a uomini e donne le redini della loro vita un progetto finanziato dalla regione Puglia giunto alla sua quinta edizione le persone che incontriamo qualora richiedano di essere supportate vengono supportate dal punto di vista socio-sanitario legale fanno accesso ai nostri sportelli per cui vengono supportate per tutte le pratiche in alcuni casi chiedono di essere messi in sicurezza per cui fanno accesso ai nostri percorsi di accoglienza che prevedono tutta una serie di misure di supporto che partono appunto dall'accoglienza materiale fino all'inserimento lavorativo passando per il supporto psicologico quello legale sanitario linguistico e formativo dal primo ottobre 2022 al 29 febbraio 2024 sono migliaia le persone contattate 2646 le donne provenienti soprattutto da Romania Nigeria Bulgaria Colombia e Sud America 1823 gli uomini principalmente nati in Marocco e in Ghana tuttavia solo 30 sono state le chiamate registrate al numero verde antitratta abbiamo ricevuto in questo periodo abbiamo ricevuto una trentina di telefonate le chiamate sono state diciamo effettuate o dalle forze dell'ordine o dall'ospedale o dalle dirette interessate quindi le donne vittime di tratta può succedere che ci chiamano gli ospedali perché purtroppo spesso capita che le donne si rivolgano al pronto soccorso perché hanno ricevuto percosse o perché hanno tentato per esempio l'interruzione di gravidanza in maniera clandestina sono i porti spesso il primo approdo per i tanti disperati ecco che il nostro compito spiega Ugo Patroni Griffi presidente dell'ente portuale è quello di rendere i porti presidi per il rispetto dei diritti umani il lavoro che viene fatto quotidianamente ha creato una rete ma è molto stretta contro gli illeciti il nostro credo che sia un po' uno dei porti in cui è più difficile far passare merci illecita e soprattutto diciamo come in questo caso si tratta di schiavi del nuovo millennio e proprio nel porto di Bari è stato realizzato il nuovo spot antitratta a firma del regista Alessandro Piva uno spot girato tra i container mi è subito venuto in mente il vorticoso via vai di merci che contraddistingue le nostre vite interconnesse ha raccontato il regista e ho immaginato come granelli di sabbia tutti gli uomini le donne i bambini movimentati al pari di oggetti in nome della logica del profitto globale e adesso cambiamo argomento durante l'assemblea congressuale regionale di Conf Cooperative Puglia è stato eletto il nuovo presidente regionale Giorgio Mercuri all'incontro ha preso parte anche il presidente nazionale di Conf Cooperative Maurizio Gardini sentiamo è Giorgio Mercuri il nuovo presidente di Conf Cooperative Puglia che succede a Piero Rossi il quale ha guidato l'associazione per otto anni il neoeletto alla guida dell'associazione regionale è stato già presidente nazionale di Conf Cooperative Fedagri Pesca ed è stato scelto all'unanimità al termine dell'assemblea congressuale che si è riunita per il rinnovo degli organi nell'aula magna dell'università degli studi di Bari Aldo Moro è la continuità del lavoro già svolto con il presidente Rossi è un modo per dare risposta a quello che poi anche le regole che ci siamo dati a livello nazionale e regionale due mandati e poi bisogna cambiare i presidenti non perché ci sia soltanto un cambiamento ma perché naturalmente l'organizzazione deve permettere di esprimere al massimo quelle che sono le capacità anche propositive che riguardano i diversi dirigenti di tutti i territori sicuramente la Puglia come confcooperativa si è affermata fortemente non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale siamo un'organizzazione che rappresenta un mondo cooperativo che ha saputo creare anche economia sulla nostra regione e credo che questo mondo cooperativo debba essere sempre di più rappresentato su tutti i tavoli sia regionali che nazionali perché riteniamo che l'economia di una regione come la Puglia non può fare almeno della cooperazione nel corso dell'incontro si è parlato anche del futuro della realtà associativa a partire dalla funzione sociale della cooperazione per il lavoro e le comunità le conclusioni sono state affidate al presidente nazionale di confcooperative Maurizio Gardini è un impegno concreto serio tangibile in questa fase molto delicata a cavallo fra le varie transizioni ecologiche digitale con tutte le sfide che dovremmo affrontare dal campo del welfare in quello di una rinnovata ruolo del nostro agroalimentare al tema delle aree interne delle nostre comunità è un momento di straordinario impegno ne esce fuori un gruppo molto serio molto collaudato molto integrato sono molto contento perché la Puglia tornerà a essere molto presente anche nel panorama nazionale di confcooperative Primitivo e Nero di Troia sono nella classifica dei primi 5 vini e spumanti venduti nella grande distribuzione della Puglia nel 2023 a riferirlo l'anteprima dello studio di Circana che verrà presentato a Vini Italy il prossimo 15 aprile i dettagli nel servizio di Antonella Filanino nella classifica dei primi 5 vini e spumanti venduti nella grande distribuzione della Puglia nel 2023 in vetta ci sono Primitivo e Nero di Troia seguono Trebbiano Prosecco e Lambrusco a restituire la fotografia ci pensa l'anteprima dello studio Circana per Vini Italy in base ai dati registrati da Supermercati Ipermercati e Discount un quadro che verrà presentato a Vin Italy il 15 aprile nel corso della tradizionale tavola rotonda la Puglia sarà di certo protagonista considerando che il Negro Amaro si è piazzato al 14esimo posto tra i vini più venduti nella GDO a livello nazionale mentre il Primitivo compare nella classifica dei primi 15 vini emergenti con un tasso di crescita del 5,2% sull'anno precedente il dialogo a Vin Italy tra produttori e distribuzione assume quest'anno maggior importanza a fronte di un minor produzione dell'ultima vendemmia il 2023 è stato infatti un anno ancora difficile per il mercato del vino nella GDO anche se l'inflazione ha pesato meno rispetto al 2022 e il secondo semestre ha registrato un leggero incremento delle vendite il dato complessivo del vino a livello nazionale è meno 3,3% a volume sull'anno precedente meglio i vini in bottiglia a denominazione d'origine che scendono del 2,8% mentre anche le bollicine calano a meno 1,1% e sono stati presentati numeri che testimoniano il successo delle grotte di Castellana del 2023 secondo i risultati raggiunti sono le grotte più visitate d'Italia vediamo le grotte di Castellana sono state le più visitate nel 2023 in Italia rispetto all'anno precedente sia per il numero di visitatori italiani e stranieri che dal punto di vista dei ricavi è stato doppiato il risultato pugliese e il bilancio 2023 è assolutamente positivo nel dettaglio sono state quasi 313 mila le presenze da gennaio a dicembre 2023 per un ricavo di 5 milioni e 410 mila euro un incremento del 15% con un aumento più marcato dei visitatori stranieri provenienti per gran parte da Francia Germania Spagna e Stati Uniti abbiamo pensato ideato nuovi percorsi per venire incontro sempre più alla richiesta e alle esigenze del turista moderno che ormai con i social e con tutti gli strumenti che ha deve essere immediatamente informato e per cui deve vivere la sua esperienza come unica sua lì dove gliela fai vivere lì ti segue per cui stiamo cercando di intercettare davvero questi cambiamenti culturali notevoli pensiamo di riuscirci abbiamo questo come obiettivo il tempo ci dirà se abbiamo ragione avremo avuto ragione o no con questi risultati il territorio si è riappropriato delle grotte e viceversa in un continuo scambio di proposte coinvolgimenti culturali sociali e storici e intanto si sta lavorando puntando a risultati eccezionali anche nel 2024 parte da credo il buon lavoro che si è succeduto nelle varie amministrazioni che hanno perseguito quella che è una linea tracciata ben più di dieci anni fa oggi siamo qui a festeggiare per pochissimo tempo perché poi c'è da lavorare un dato inconfutabile quasi 313 mila biglietti staccati e quindi record di presenza nel 2023 alle grotte di Castellano da quando è nata la società grotte questo è un bel segnale più 15% sul 2022 quindi sono dati incoraggianti che dimostrano come il duro lavoro il credo e tutte quelle che sono gli sforzi che vengono fatti in offerta ambiziosa grotte di Castellano sicuramente punta di diamante della nostra comunità ed era questo il nostro ultimo servizio la prima edizione del telegiornale di Teledeon termina qui grazie per essere stati con noi vi auguriamo un sereno pomeriggio in compagnia dei nostri programmi televisivi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.